Cosa è successo dentro quella sala parto? E questo è il punto di domanda. Vuole vederci chiaro la procura di Catanzaro sul decesso di Katia Caloiero, morta di parto, all'ospedale del capoluogo domenica scorsa. Vuole capire perché una donna di 39 anni possa aver perso la vita dopo aver messo al mondo una splendida creatura di tre chile e mezzo in perfette condizioni. Servono risposte, le chiede il marito Giuseppe, che continua a cercare un senso. Vuole una spiegazione che dovrà dare un giorno alla sua piccola Federica perché sua madre non c'è più. Il suo cuore ha smesso di battere quando quello della sua piccola entrava in simbiosi con il mondo. Il pubblico ministero ha così disposto il sequestro della cartella clinica di Katia, una giovane donna, alla prima gravidanza affrontata senza alcuna evidente problematica, disponendo al tempo stesso l'esame utopito sul corpo. I parenti, il marito e un giorno anche la piccola Federica hanno bisogno di sapere se la sua morte poteva essere evitata perché è davvero assurdo ai giorni nostri perdere la vita quando la vita nasce. È davvero assurdo che un padre, un marito, un uomo debba condividere nello stesso momento la gioia di rivedere negli occhi della sua splendida bambina quelli di sua madre e il dolore di non poter più stringere sua moglie tra le braccia. La procura deve vederci chiaro, ne ha l'obbligo, deve spiegare a Federica innanzitutto perché è rimasta senza madre.